sullo schermo erano i gemelli Brenda e Brandon Walsh. Ma nella realtà, tra Jason Priestley e Shannon Doherty, protagonisti della serie cult anni 90 Beverly Hills 90.210, l'attrazione era fortissima. Lo ha raccontato lo stesso Jason Priestley, oggi 54 anni, al magazine Stati Uniti Weekly, confermando che sia lui che Shannon Doherty, 53 anni, erano perfettamente consapevoli della loro attrazione fisica. «E ci ridevamo continuamente sopra», ha commentato Priestley, che oggi è felicemente sposato con la truccatrice inglese Naomi Lode, insieme hanno due figli. Nella fiction Brandon amava Kelly, Jenny Gart, e Brenda era pazza d'amore per Dylan, Luke Perry. La verità è che tra i due giovani attori c'era una fortissima intesa e una chimica erotica che niente aveva a che fare con l'innocente rapporto fratello-sorella. Priestley ha spiegato, «Shan e io ci siamo divertiti molto a girare insieme quella serie. Tra i motivi per cui avevamo così tanta chimica c'è il fatto che ci piacevamo in maniera sincera. E credo che questo si capisse e abbia reso così riuscito il progetto». Priestley e Doherty hanno recitato insieme sul set di Beverly Hills 9210 dal 1990 al 1994, fino a quando Doherty è stata licenziata dopo essere arrivata più volte in ritardo al lavoro. Jason Priestley, invece, ha recitato nei panni di Brandon Walsh fino al 2000, anno in cui la mitica serie TV si è conclusa. Il video finisce qui, ma se sei interessato alle news puoi iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti nuovi video.